Buona domenica. Oggi, 12 febbraio, è la sesta domenica del tempo ordinario. La frase della parola di Dio di oggi è «Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a dare pieno compimento». Gesù, commentando le norme della legge biblica, i comandamenti e gli insegnamenti della Sapienza d'Israele, dice «Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a dare pieno compimento». Gesù non è venuto a cambiare la parola di Dio che prima di Lui lo Spirito Santo aveva scritto attraverso Mosè ed i profeti. La sua vita e il suo insegnamento, ma soprattutto il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo sono il compimento che Lui ha portato, il pieno compimento che promette. È infatti con la forza che viene da Lui, con la Sua grazia, che comprendiamo la parola e possiamo metterla in pratica. È questo che chiediamo nella preghiera quando diciamo al Padre «Sia fatta la Tua volontà». Questo si realizza e compie la promessa di Gesù. «Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a dare pieno compimento». Buona Domenica.